Allora, sono andato qui, oggi faccio gli anni, sono andato qui, ho preso una torta e pasticcini per i colleghi di lavoro perché una cosa che mi ha sempre insegnato mio padre è mai in taccagneria, mai in taccagneria. Allora ragazzi, mai in taccagneria, mai in taccagneria. E' venuto a trovarmi anche Stefano, che mi ha dato il bracciale, guarda. L'Ambrenedetto XB, anche florescente la sera, con scritto mai in taccagneria, bravo, ottima, è un'idea che ha avuto lui, mai in taccagneria. Poi me lo metto, mai in taccagneria, il bracciale anti-taccagni. E poi dopo, bello sto bracciale. Niente, allora ragazzi, oggi faccio gli anni e un cazzo, esco prima dal lavoro, il capo mi ha regalato due ore di ferie regalate perché io lavoro in un posto che non è anche qui, non è che sono in taccagneria, mi ha detto dai l'ambre compigliani, vai a casa, non rompere il cazzo. E quindi, niente, io, quello che io vi voglio dire, a di là del compleanno, che a me non me ne frega niente il discorso, poi di solito non lo dico neanche che faccio gli anni, non me ne frega niente. La cosa importante, secondo me, del compleanno, perché poi quando fai i compleanni da giovane, dici, quando sei ragazzino, dici, te ne fotte. Però sai, quando poi iniziano gli anni a pesare, le ore, il tempo libero diventa importante. Il tempo libero è importante sempre, anche quando c'hai 30 anni, anche quando c'hai 20 anni, perché la vita corre veloce. Quindi io il messaggio che voglio dare, oltre mai in taccagneria, mai in taccagneria, io di sera stavo facendo una live e uno mi diceva, mi aveva scritto, no, il messaggio che voglio mandare è quello di, ragazzi, bisogna vivere day per day, non bisogna chiudersi nella stanzetta efebica alla Ikikomori. Quindi, ragazzi, cercare di divertirsi, viaggiare e mai vivere in taccagneria. Ok, lavorare, ovviamente, perché sennò dove cazzo vai, però mai in taccagneria. Questa è importante. Ieri sera mi aveva fatto una domanda a uno in una live dove mi diceva, mi diceva, Lambre, ma uno che ha 500 mila euro è ricco? E io gli ho detto, cosa vuol dire ricco? Io l'ho spiegato mille volte, mille volte, che la ricchezza è lo stile di vita, la quantità di beni economici che uno possiede, è una delle domande fondamentali, se fai l'esame di promotore è una delle domande fondamentali che ti fanno. La ricchezza non è i soldi che uno possiede, la ricchezza è lo stile di vita, che tipo di vita fai, i beni economici che tu possiedi, eccetera, eccetera. L'ho già spiegato mille volte. Quindi solo mi dice, mi dice, no ma 500 euro è ricco, non vuol dire un cazzo? Se ha 500 euro e vive come un taccagno è un poveraccio. Ragazzi, se ha 500 euro e vive come un taccagno è un poveraccio. Allora, mi viene in mente quello che andò a prelevare 100 euro, arrivò al bar, uno dei tanti accumulatori del mio paese, accumulatore che è arrivato a 50 anni, è arrivato a far vedere l'estratto conto che c'era su più di 300 mila euro. Uno che fa una vita alla bagnomariuccia. Quello lì è ricco perché c'ha 300 mila euro sul conto corrente o è povero? È un poveraccio, è un poveraccio. La ricchezza, solo la quantità di beni economici che uno possiede. Io vi giuro che se io dovesse avere 500 mila euro sul conto, io starei male dalla mattina alla sera. Perché dico, cazzo, cioè, quando comunque arrivi che c'è una certa età, io non sono un ragazzino, ok? Devo mettere in pianto anche questo. Spero mi tocca i coglioni di campare fino a 200 anni. Però, se uno a 50 anni è ancora un taccagno accumulatore, ha capito un cazzo? Cioè, devi spendere, viaggiare, divertirti. Se hai 500 mila euro, devi avere macchine, vestite alla moda, ristoranti, una bella casa. Altrimenti, che cazzo te ne fai dei soldi? Te li porti nella tomba? No, non te li porti neanche nella tomba perché li lasci i tuoi nipoti, fratelli, cugini, figli, che cazzo ne so. Vabbè, uno che avesse figli, dici, vabbè, c'ho i figli, vabbè. Sempre pirla sei, perché comunque anche tu non puoi fare la vita da taccagno. Ma se uno che non ha figli, c'ha via i soldi, penso che siamo alla follia pura. Mai in taccagneria, mai in taccagneria, mai in taccagneria, ragazzi. Grazie dell'idea che ci ha avuto Stefano. Mai in taccagneria, dopo me lo metto su, me lo metto su il bracciale, mai in taccagneria. Cioè, me lo metto su dopo, mai in taccagneria. Lo metto su come anti-taccagni. Cioè, quello che io vi voglio dire, ragazzi, nel giorno del mio compleanno, il messaggio che io vi voglio dire è che la vita è una sola, la vita è una sola, ragazzi. È una sola, bisogna vivere giorno per giorno. Non rinchiudetemi nella stanzetta o, peggio ancora, nelle quattro, nelle quattro, nelle quattro mura. Non è chiuso niente. Io c'è un amico che adesso appena partito è andato alle Canarie, per dirti. Se volete viaggiare, potete viaggiare quando cavolo volete. Chi non viaggia, chi non si diverte, sono tutti scusanti. Perché quando tu inizi a diventare taccagno, ogni scusa è sempre buona. Quindi la taccagneria va lasciata da parte la taccagneria. Ragazzi, ma come si fa a fare una vita così? E quindi il messaggio che io vi voglio dare è questo. Che poi i taccagni, la cosa bella dei taccagni, che poi sono pure cattivi, cattivi, invidiosi, compagna varia. Nella vita bisogna essere... Guardate tutti quelli più frustrati. Tutta gente taccagna, tutta gente cattiva. Allora, io quello che vi voglio dire è lasciate perdere la cattiveria. Lasciate perdere tutte le cose. Cioè la gente lì è attaccata, sono lì che guardano il cinema, ma andate a cagare va. Ieri sono passato da una mia zia, sono passato a trovarla e mi ha dato 50 euro. Li prendo e li mando su al Donbass, non me ne frega niente. Se qualcuno mi regala qualcosa, li mando su, non me ne freta un cazzo, madonna. Ragazzi, ma basta, 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 basta. Non bisogna vivere nella taccagneria, nella taccagneria. Cioè io, per l'amor di Dio, avrò mille difetti, avrò mille difetti. Sarò troppo buono, sarò troppo generoso, ci avrò le mani bucate, non lo so. Ma una cosa che la gente non potrà mai dire di me è che l'Ambrenedetto è un taccagno. Ma lungi da me questa cosa. Ma mamma mia, ma mamma mia, mamma mia, mamma mia. Ma beh, probabilmente se fossi tanto un taccagno, oggi avrei una palazzina con quattro, con tutto quello che ho sputtanato in viaggi, divertimento, ristoranti, che cazzo ne so. Ma anche tante persone che gli davo aiuti, compagnia madre, perché sono sempre stato così. Oggi avrei una palazzina con quattro, cinque appartamenti. Potrei dire, vabbè, 500 è un appartamento, non faccio niente. Ma come avrei vissuto? Come avrei vissuto? Come avrei vissuto? Da taccagno avrei vissuto? Ma chi se ne fotte? Se tornassi indietro, quello che ho fatto lo farei ancora di più, di più, di più, di più. Adesso c'è questa situazione che mi rompe un po' i coglioni, ve lo dico, perché... Com'è la situazione? E l'aeroporto, e questi, per andare di là, vai da un'altra parte. Ma fossi stato più giovane, ero già in Bielorussia, mi ero già andato in un paese dove... Ho chiamato un mio amico, sta a Mosca, stavo andando in palestra, me ne ero già andato fuori dalle scatole, mi ero già preso un anno sabbatico, mi sono preso, nella mia vita, tre anni sabbatici, mi sono preso. Cioè, e non è detto che se mi girano le pale fra un anno, due, piglio, prendo la roba, parto via per due mesi, che cavolo, che cavolo. Poi la gente mi dice, l'ambre e il lavoro? Il lavoro! Se sei capace di fare qualcosa, se sei in gamba, ok? Il lavoro lo trovi, hai capito? E se non sei capace di fare niente che non lo trovi, ok? Vale che vada, vado dal mio dattore di lavoro e dico, ascolta, mi sono rotto i bal, voi vi ho messo due mesi, vado, piglio, vado in Kirgikistan, vado. Vado in Kirgikistan e in Turkmenistan, il volto dopo. Ascolta, per un mese sono via, romì e bal. Cioè, ragazzi, imparate un mestiere, imparate a fare qualcosa, non perdete tempo sulle chat, imparate le lingue straniere, imparate a fare qualcosa, vivete come se la vita fosse un domani. E mai, 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 in taccagneria! Questo è quello che io vi voglio comunque dire. Va bene, auguro tutti quelli che mi fanno gli auguri di compleanno, vi ringrazio, ragazzi, vi mando un abbraccio a tutti. Poi la gente mi chiede cosa succederà con il drago, il drago, anche il drago, anche il drago. Adesso tutti, oh, l'avevamo detto, l'avevano previsto, voglio vedere, chi nel 2018, a fronte della nascita del governo del cambiamento in nulla, aveva previsto, ancora già nel 2018, ancora prima che nascesse, perché stavano già parlando fra di loro, ho detto, vanno su questi qua, gli do tempo, gli do tempo, massimo fine 2020, inizio 2021, arriva il drago. E così è stato. Adesso sono tutti, oh, l'avevo detto, avevo previsto, avevo detto. Ci voleva tanto a predire certe cose, ci voleva tanto a predire che certi personaggi politici sono pappa e ciccia con quella parte di là e sono la stessa cosa. Cioè, non è che bisogna essere dei grandissimi analisti per fare questo. Però, nel 2018, l'avrei detto, l'aveva previsto questo. Vabbè, vi ringrazio, vi saluto, ragazzi, mai in taccagneria, vi voglio bene. Un abaccio a tutti.